Lo sport come veicolo di socializzazione, di integrazione, di speranza. Va in questo senso l'intervento completato dalla WISP nella casa circondariale di Pesaro, nel carcere di Villa Fastigi, che è l'unica struttura penitenziaria delle Marche che ospita anche una sezione detentiva femminile per 20 detenute. Tante ne sono ospitate in questo momento nel carcere pesarese. 20 detenute che da questo momento hanno una speranza in più, quella di un intervento realizzato da WISP che in uno spazio che era soltanto un'area passeggio in cemento, hanno portato alla realizzazione di un cortile per la pratica sportiva con una pavimentazione adeguata a praticare ginnastica e pallavolo. Qui a Villa Fastigi a Pesaro la sezione femminile e la sezione maschile ha appunto un campo a disposizione. La sezione femminile, come avete potuto vedere, aveva solo questo cortile. E quindi dopo tanti anni di ginnastica ci siamo impuntati, non è stato facile recuperare risorse e tutto, ma era doveroso che restituissimo a queste ragazze uno spazio dove fare socializzazione. La direttrice prima ci diceva, appena abbiamo montato il pavimento, hanno chiesto se lo possiamo pulire, lo possiamo lavare, quindi è stato importante. Attraverso questa donazione passa un messaggio fortissimo di prendersi cura della persona e quindi di far leva sulla dimensione sportiva, dell'attività sportiva. Considerate che anche l'ordinamento prevede che la permanenza all'aria aperta, per cui questo locale progettato, sia destinata principalmente all'esercizio dell'attività fisica. Quindi attraverso questa donazione si veicola un messaggio di potenziamento della pratica sportiva in carcere, laddove si può comprendere quanto appunto la detenzione porta anche inevitabilmente un prolungato stato di inerzia, perché non ci sono sempre, o comunque in tutti gli istituti, quelle attività palestre, insomma non sarà mai come essere appunto nella società libera, per cui ecco già l'ordinamento si avvedeva di questa particolarità e oggi lo vediamo sotto i nostri occhi quanto appunto anche soltanto una piccola donazione, che piccola però non è, qua dentro in questa dimensione può fare appunto per rievocare il concetto di persona, di sport e di donna, non perché detenuta ma perché donna. E lo sport deve essere un progetto di vita anche per i cittadini che si trovano temporaneamente a vivere all'interno di un istituto penitenziario. E poi lo sport come diritto, lo sport come strumento di socialità, ma soprattutto lo sport ormai riconosciuto dalla Costituzione, riconosciuto nel suo valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico delle persone. L'intervento è totalmente a carico della WISP che ha incontrato la buona volontà di uno dei membri del suo consiglio, ovvero Andrea Farisello, e della sua ditta edile la Far Costruzioni. Abbiamo bonificato le pareti, una questa alle mie spalle e un'altra sul laterale, dove abbiamo tolto completamente tutta la vernice, tutto il cemento che era marorato, dovevamo solo fare piccole ripristini, poi abbiamo deciso di rasarla tutta, anche se il lavoro era concentrato in poco tempo, abbiamo dovuto fare un po' alla meglio. E successivamente abbiamo posato il pavimento in gomma riciclata per l'utilizzo del campo, e è un pavimento che viene utilizzato anche per i campi dei bambini, quindi antiurto e quant'altro. Dovremmo esatto posizionare ancora la rete da pallavolo e poi una vela ad ombrezzare un po' il cortile, perché adesso si sta abbastanza bene, ma poi più tardi è completamente al sole. Un gesto importante che si inserisce in un contesto quanto mai complesso, quello del sovraffollamento delle carceri, non fa difetto la situazione pesarese, i numeri attuali dicono di 250 detenuti ospitati attualmente nel carcere di Villa Fastigi, la maggior parte sono uomini, sono soltanto 20 le donne ospitate, dicevamo 250 detenuti su una capacità detentiva regolamentare di 153 detenuti, dunque numeri quanto mai sovradimensionati. Attualmente le donne ospitate sono 20 su una capacità di 21, ma si è toccati anche quota 29. Il report del 2023 è drammatico, su 40.000 posti circa, sono 60.000, quindi sovraffollamento per la mancanza di fondi e le condizioni precarie del carcere.